Sono partite le consultazioni del presidente della regione Puglia, Michi Vendola, in vista del rimpasto della giunta che si rende necessario in seguito alla elezione in Parlamento di tre membri del governo regionale, alla Camera gli assessori al bilancio Michele Pelillo del PD e alla programmazione e politiche giovanili Nicola Fratoianni di Sell, al Senato l'assessore Dario Stefano della Puglia per Vendola. Potrebbe essere sostituita anche l'assessore regionale allo sport Maria Campese, che si è candidata alla Camera in Piemonte nelle liste di rivoluzione civile con Ingroia. Probabilmente Vendola accoglierà l'occasione del rimpasto per ridurre il numero complessivo degli assessori dagli attuali 14 a 10 oppure 11 unità. Secondo le ultime indiscrezioni potrebbe ridurre anche il numero degli assessori esterni, dai quattro attuali a un numero massimo di due. Stamani Vendola incontra i segretari regionali di CGL, UIL e UGL, mentre domani incontrerà la CISL. Più tardi si confronterà con i rappresentanti del comitato 50-50, il movimento popolare promotore delle modifiche della legge elettorale regionale che garantisce la parità di genere in consiglio. Qualche mese fa la legge fu bocciata dalla stessa SISL regionale. Nel pomeriggio Vendola dovrebbe incontrare anche i segretari e i capigruppo regionali di Partito Democratico e Sinistra Ecologia e Libertà. Domani incontrerà i partiti socialista, democratici, autonomi, moderati e popolari. In queste ore Vendola potrebbe anche chiarire se si dimetterà dalla guida della regione prima della scadenza naturale della legislatura prevista per il 2015 in seguito alla sua elezione alla Camera dei Deputati. L'opposizione in consiglio regionale, PDL e i pugliesi occupa da tre giorni simbolicamente l'aula della SISL per chiedere a Vendola di decidere in fretta. Sulla stessa posizione si sono espressi i presidenti delle province pugliesi che ieri hanno sottoscritto un documento in cui criticano su tutti i fronti l'operato della giunta pugliese e chiedono a Vendola di fare chiarezza sul suo futuro.